Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul mio canale. Allora, come molti di voi sapranno, un po' di tempo fa ho creato una lista Amazon per Emma perché molti di voi me l'hanno richiesto, principalmente su Instagram. E nulla, oggi è arrivato un regalo da parte di Giulia e lo andiamo ad aprire insieme. Quindi vediamo la reaction insieme. Intanto grazie, grazie solo per il pensiero. Mi sono già munita di forbici, modestamente. Voi che faccio di sopra? Lei si è appena svegliata? La bambina appena l'ha vista, disperata? Beh, ma inizia. Ma io ho fatto vedere l'indirizzo mio. Vabbè, in caso metto qualche emoji. Faccio tanto per non farlo vedere. Ma per te regalino. Vediamo, vediamo. Mamma mia, che bella. Bellissima, è quella che volevamo, grazie. Mi piace tantissimo. Che bella. Guardate, allora, aspetta mamma. Praticamente la lampada di Peppa Pig. Ovviamente adesso lei impazzirà di gioia. Mamma, per te. Mamma, che carina. Guarda. Bellissima. Ah, grazie, grazie, grazie mille. È bellissima. Ah, fa tutti i colori. È nulla. Allora, io vi lascio sotto qui, sotto questo video, ancora il link alla lista. Nella lista Amazon per lei. Io vi ringrazio anche solo per il pensiero, perché molti mi scrivono, vorrei inviarti qualcosina, molti mi vogliono inviare anche magari letterine, cose fatte a mano con le mie. Però, dovete capire che ho ancora pochi iscritti e quindi dare l'indirizzo, sinceramente, io non me la sento. Per quello ho creato questa lista. Ovviamente è una lista che siamo anche tra di noi parenti, nel senso che ci sono sia cose molto costose, che cose meno costose, perché è alla portata di tutti. Siccome io ho anche parenti fuori dalla Puglia, è ovvio che metto anche cose magari un po' più costose che vogliono regalare alla bambina. Quindi non è fatta in modo, come posso dire, superficiale. E ho messo un po' di tutto. Io ringrazio ancora Giulia, ti mando un forte bacio e abbraccio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.